Allora ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ho da dirvi questa cosa molto molto importante e ovviamente per questo io ho fatto togliere a Tina da Instagram. Io ho cancellato oggi sia Instagram che diciamo l'applicazione di Instagram e di Whatsapp. Allora, vi spiego cosa succede. Lunedì ho organizzato una festa sorpresa per Tina a Piazza del Plebiscito a Napoli. Diciamo che lei sa, tramite le amiche, sa che gli hanno organizzato una festa a Napoli, in un locale di Napoli. Invece non è vero. Quest'hammer la andrà a prendere a casa, a lei, a queste amiche sue, Maria, la sorella, tutto quanto, e la porterà a sorpresa, lei ben data, a Piazza del Plebiscito. Quando arriverà a Piazza del Plebiscito ci sarà questa sorpresa in piazza. Abbiamo fatto una cosa bellissima, abbiamo creato questa cosa bellissima, è una cosa che dovete venire a vedere. Siete tutti invitati, quindi mi raccomando, ci sarà questo flash mob per la sposa, inaspettato. Quindi siete tutti invitati, mi raccomando, lunedì 25 sera, intorno alle ore 21, ci sarà questo flash mob, questa festa organizzata a sorpresa per Tina, a Piazza del Plebiscito. Ovviamente lei arriverà ben data, quindi non saprà di questa sorpresa. E li troverà tutti, compreso me, e ci sarà una cosa che non vi posso dire. Quindi abbiamo organizzato questa cosa per lei in assoluto anonimato, nel senso, è una grande sorpresa. Quindi vi invitiamo tutti e soprattutto vi invitiamo, lo dico a quelli che conoscono, magari anche personalmente, se la incontrate, se la vedete, qualcuno dei negozi, qualcuno che magari la incontra per strada, o no? Eh certo. Non dite niente, mi raccomando, perché lei non lo sa. Lei sa che ci sarà questa festa a sorpresa in un local di Napoli lunedì sera. Quindi le sue amiche gli hanno organizzato quest'addi annubilato. Mi raccomando e soprattutto fate girare queste storie perché siete tutti invitati, tutti, 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 tutti. Ok? Noi ovviamente saremo lì e voi non potete mancare. Quindi parenti, amici, conoscenti, fan soprattutto, venite tutti a Piazza del Plebiscito lunedì sera, alle ore, intorno alle ore 21, quindi 20 e 30 è meglio. Mi raccomando perché la sorpresa durerà, dicevo, la sorpresa durerà all'incirca mezz'ora, 20 minuti. Quindi se fate più tardi rischiate di non vedere la sorpresa. Quindi non mancate, non mancate, non mancate, come sempre l'emozione sale. Ogni volta c'è qualcosa di importante, ma stavolta si parla del nostro matrimonio e quindi siamo veramente, veramente emozionati. Non mi avete visto sui social perché ho dovuto organizzare tutto il matrimonio, l'ho fatto tutto da solo, diciamo con l'aiuto dei miei amici, le persone che mi vogliono bene e mi stanno vicino, ma lei non sa nulla, quindi gli ho detto che per 48 ore, fino a martedì a mezzogiorno, non dovrà avere Instagram, ma secondo me sarà una grande festa ragazzi, una cosa bellissima. Quindi mi raccomando a Diannubilato con tutti i fan, tutto il pubblico, tutte le persone che ci amano, venite a Piazza del Plebiscito lunedì sera intorno alle 8 e mezzo, 9 e meno un quarto, mi raccomando fatevi trovare lì perché ci sarà questo grandissimo flash mob per Tina e per Tony, ovviamente anche per me, però organizzata da me, lei non lo sa. E qualche altra sorpresa ancora pure. E ci saranno due cose molto 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 grandi, voi venite, 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 mi raccomando, flash mob per gli sposi, ok? Non mancate? E poi il giorno 28 è il grande giorno, che ormai si avvicina. Mi raccomando, fate girare queste storie, fatele girare, va bene? E soprattutto se conoscete Tina, qualche negozio, qualche run, che ne sa, c'è, a Salumeri, dove Tina va, se sapete questa cosa non gliela dite perché lei non lo sa, è una sorpresa, va bene? Lei non sa nulla di lunedì, sa che le sue amiche la portano in un locale a Napoli, quindi per fare la festa, diciamo, il classico Diannubilato tra donne. Acqua in bocca, eh? Mi raccomando. Allora, buongiorno a tutti, ho chiesto a mia moglie di cancellarsi da Instagram e da Whatsapp. Come si fa? Allora, per sempre. 48 ore. Perché... sì.